ah 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 beh adesso mi sente mi ha detto vado via due minuti a comprare le sigarette e sono otto ore ottore che via dove è andato sul bianchiato dove è andato al tema mi sente mi senti eccolo eccolo vieni qua diventata vieni qua vieni qua dove sei stato? sono stanco dove sei stato? si guarda su qui siedi sono stanco sono stata a truppare le sigarette ottore quanto appacchino qua giù era chiuso quello qua giù era chiuso e l'ha chiuso perché il funo uccide. Dopo ho preso la macchina e ho sbagliato, anziché andare verso Venezia, sono andato verso Milano e sono andato a comprare la sigaretta all'aeroporto di Milano, all'aeroporto di Marpenza, sono andato all'aeroporto di Marpenza e ho composto le sigarette e sono tornato. All'aeroporto di Marpenza ci vogliono, due ore a andare, due ore a tornare, le altre sei, quattro ore? Quattro, quattro ore? Ma chi ti incontra all'aeroporto di Marpenza? Ti incontri? Marco e Andrea che tornavano, uno dalle maldine e uno tornava dalle sei sceglie. Ci siamo entrati, non c'erano vent'anni che abbiamo fatto, abbiamo mangiato una costina. Dove? Dove? Tutto. In un ristorante, in un ristorante, in un ristorante abbiamo trovato un ristorante. Come si chiama il ristorante? Dimelo. Il ristorante si chiama La Rotonda sul Mare, Amminare, l'aeroporto, famosissimo, La Rotonda sul Mare. E poi siamo tornati, grazie, con un caffè. No, 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 adesso, stretti, se non mi dici tutto quello che avete mangiato. Allora, abbiamo mangiato l'antipasto, il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto. Quattro è l'antipasto? L'hai mangiato? L'antipasto? L'antipasto abbiamo mangiato. E' degli affettati misti con due olive. Ok, e poi il primo? Il primo, le diluine con le cozze. Ok, va bene. E' il secondo? Il secondo, abbiamo mangiato il petto di pollo con i filotti. E poi la frutta non ci andava, la frutta no, la frutta non ci andava, la frutta non ci andava. Il dolce sì, la santo onorevole. Poi, un amaro e siamo tornati. Quale amaro? Oppure qual è l'amaro? La mano, la mano, la mano Montenegro. Amore, ti ho detto tutto, due, due, quattro, un caffè. Sono riuscito di prendo un caffè. Io vado. Grazie, grazie. Vai, tocca, c'è. Vai, tocca. Questa è un kill, un hitler. Ta, ta, ta. Vado io, vado io, vado io. Vado io, vado io. Da, io, io, so. Era una strota che prendeva le pettole, ma noi non ci interessano. Ta, 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 ta. Vado io, vado io. La panetta. Eh, oh, io, Marco, Marco. No, 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 no. Siediti, Marco, sediti. Tu sei per brutto, Dario, eh? Siediti, sì, sì. Marco! Ah, da quanto tempo la... E sai, Marco? Bene, bene. A quanto tempo non ci vediamo? Sì, no, 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 no. I, io, no, no. Non ce l'hai con me? No, io, io, no, no, no. Io adesso, no, no. No, no, no. Marco! Eh, Marco! A quanto è che non mi viene mio marito? E se non lo tiene... No, no! Sì! Ora! Ora l'abbiamo visto! E io, oh, come sono venuto a me! Sto andando! Oh, no, 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 no. No, 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 no. E io, no, 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 no. E qua, che qua? Oh, no, 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 no. E insomma, dai, dov'è che l'hai visto? Tog, on, tu mi hai detto come ho visto. Tog, 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 tig, tog, tig, tig, tig. E ricordo che, nel contemper, ci siamo fatti già di quei cannoni, tig, 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 tig. è il tabacchino ma è quale tabacchino? è quello sotto un carro no 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 a casa di Montella l'aereo l'aereo lo spingevamo perchè non c'era da vicino lo portavamo lo portavamo e aereo porto aereo porto aereo porto ah ok ma il quale ahhhh ahhhh no 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 incagato come la destra ahhh ahhh ma questo l'aereo in carica l'aereo in carica e quando parlo farò tante di quelle cagate e penso ma a Malpensa alla rafforma di Malpensa ehi devo andare per noi no 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 ho sbagliato il pappaletto mi racconti mi racconti cosa avete mangiato anzi prima prima dove siete state? dove? a Malpensa dove? a Malpensa a mangiare a mangiare a mangiare a mangiare dove? dove? si dopo il tanto della faccia dai guarda le mani le braccia le braccia guarda a me guarda a me certo caschini che no la rotonda una rotonda una rotonda è un posto strano che per raggiungerlo dove? a Malpensa e poi gli spiego dall'altra parte c'era il pescatore che pescava i pesci beh era così e quindi la rotonda del mare la rotonda su ma adesso mi dici cosa avete mangiato? cosa? tutto quanto è tutto il primo l'abbiamo buttato l'antipasto 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 e e e e e e e e e scegliamo che metteva il braccio l'antipasto la mano e e guarda a me mi dici il braccio si spettila si spendeva si affetta si affetta si affetta affetta don affetta conne e c'era una sfilata di misto misto affetta qui e l'ha visto insieme a due amiche piccole anche in gite e faccia come si e di primo racconta non vede mangiato c'era il cane uno scelto lo strano di clima che veniva e gileccava le piccole le liquine con con questo è fatto con le corse e se guarda a me e di secondo non vede mangiato ma no sì che c'era una davanti a me ma no con due sì che c'era una c'era una gallina un tacchino Sibia via d'arte malito che il pollo non fa le uova il petto di pollo il petto di pollo poi fin'olio si no no non fa le uova Il discorso, aspetta, 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 ma a seconda qua c'è la dolce, la frutta, la frutta, la frutta, no, 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 la frutta, il dolce, il dolce, eh, guarda me, guarda me, guarda me, guarda me, è stato un prete, un bescovo, un cardinale, il papa, un santo, no, un duca, ından da principe, re, santo, no, re, santo, no, re, santo, no, la santo, no, la santo, no, 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 no… E poi? E poi? E poi? E abbiamo vomitato il picciopist di Amaro L'Amaro Quale Amaro? Jägermeister No, no E poi? E poi? Amore, hai visto? Amore, eravamo insieme te l'avevo detto Faccio a farlo del caffè No, no, vai, vai, vai 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 Ma sono andato con Claudio Mi ricordi, Claudia? Per chi è Claudia? Claudia è l'amica mia talmente grande e l'ascensore è stato in lato, quella E io ho detto che non conosci a te che Andrea Andrea chi? Gene Oh, mamma sì, dove stiamo fare una sorpresa? Dav, sta venendo? Ma no che sta arrivando Sta arrivando? Ma come facciamo? Ma che ti so? Ma che dici? Io non lo so, Andrea sta arrivando Vai Andrea Ma vado io Fermo Fermila, vado io Vado io, vado io, vado io Oh. �